Non so cosa pensare in realtà di questi Vedo tantissime kill e tantissimi morti in ogni partita Cioè questi sono i classici tizi 25-12, 15-18, 18-12, 25-8, 11-13, 12-4, 27-16-13 con Warwick, 11-10-12, 7-16-10 Ok capisco, cosa cazzo, ah, questi sono due pre-made un po' pazzi, ah sì, ok Ora capisco perché Bene Sarà un game entusiasmante questo Lui invado tutto sto casino Con la gente scrive se è il MyFortretacam, va bene Proprio loro E poi questi hanno invasi in due, sai gli altri che cazzo stanno facendo Ecco, mi ha preso un assist e suppongo un Dark Harvest Oh Ecco, ecco qua Mi è entrata una discreta pizza Sarà una top lane molto entusiasmante questa Anzi, si è preso un altro Dark Harvest il ragazzo Ah ma non ha sbloccato l'A sto cartiglino Fa andare back Mmm, grosso errore secondo me Va bene Vabbè che dici sai la pushata Sì, sarà una partita spicy ragazzi questa, mi interessa, mi piace Preso la contro per il Warjump Lui mi sa che ha livellato prima perché ha preso l'assist Oppure aveva aggiunto il minion, non ho controllato, my bad Muore il carretto Oh yes Eh no, è carino però Sdong Mazzolato per bene Quanti bei grasp che abbiamo preso Jax col grasp è un cesso Però È sempre bello ricevere il grasp Perché sai che stai Investendo per il tuo futuro, no? Perché è una stack permanente il grasp Ti dà HP permanente Quindi Sai che è un investimento per il tuo futuro Riesco a prendere la plate anche se c'è ancora le difese Penso di sì Con molta fatica Invece no Invece no Tuck grasp Il premade non viene ad aiutarlo Tuck Siamo un po' secco di mana qua Non c'ho mana per la Q Peccato Gli ho sbagliato a rimanere lì Guarda, ce lo consiglia pure il Jaxxho Qua perdiamo un po' di roba, cazzo Comunque non so com'è l'interazione Della mia E sulla sua E, sinceramente Ho visto che mi spinge lo stesso Però il danno non subisce Come funziona? Vabbè Oh, sto game qua Sembra bilanciato Però sti due qua ho visto che giocano in modo molto pazzerello Devo dire Mi spinge non subisci danni, ok Lì purtroppo ha l'ignite Non ho rispettato l'ignite Non c'ho neanche pensato dell'ignite Ma ora lo sappiamo Grazie al fatto che io ho il TP e lui no Riesco a non essere indietro di livelli Che è una cosa positiva Eh! Ci ho provato Quante storiettate avevo preso Ma che distanza l'ho presa l'ultima? What? Kate has your fortuna Ma Stai ancora di questo, parla Vabbè Noi Ovviamente Ti hit a Shaco Ah no, ci stanno i minion adesso Ora non lo hit a più Ma Ah, non lo vedeva? What the fuck? Sì, qua è stato un po' un qui-prend da parte della torre Ma tanto ci siamo abituati Voglio dire una di nuovo Grazie Wardsy per il Prime Benvenuto, carissimo Eh, non lo vedeva Strano Cioè, penso che quella Ward Ci avesse visione Ma quanto pare no Ah, il fatto che con sta build faccio davvero poco Eh, no, no Cioè, si stava incazzando come una maiala Ciao Fieric Che build stai usando? Però Jax è troppo più forte di Hecarim in lane, ragazzi Hecarim in lane suca troppo Sto, facendo una build full tank Ho visto Ok Via Uh Stavo pensando se rigirarmi su Su Rise Però alla fine non va di auto-attacchi Quindi non parandogli Mi avrebbe killato Va bene così La wave è mai messa anche perfetta Per noi Cioè, proprio Alla grande Prendiamo la contro per Warjump E torniamo top Alla grande, ragazzi Alla grande Wave Benissimo Grazie Brian per i tre mesi Bentornato Dunque stiamo facendo un Jax full tank Con il Jax Con l'Hardsteel Perché, boh, è l'unico Jax che non ho mai fatto Quindi Per non fare qualcosa abbiamo già fatto Ciò giochiamo così Abbiamo giocato Full attack speed CDR Crita Vabbè, P In tutte le salse Anche tank Però comunque Con l'Hardsteel No, visto che questa è la season Degli oggetti pazzi Però Un po' pazzarello questo Eh Diciamo che Tra l'Syndraktar e Shaco Con il Fiendish Code Direi che C'è una leggera jungle diff Cosa sta facendo? Fidda? No Perché Sono di Diciamo Sì Se tipo Non lo prendo mai Purtroppo Mi lascio rubare la wave L'ho rubata a metà Va bene Ci ho detto Se tipo Scappa subito Quindi non penso Abbia un gran senso You are just lucky Scrive Zaire Sai che sta succedendo in botte? Ah, comunque Varus Lethality Penso Che schifo Va benissimo Cosa sta facendo Il mio mid laner Perché tipo Il mio team sta cercando Di sabotarmi ragazzi Questa è venuta in top Ha rubato Mezza wave Di nascosto Ok Ok Sì 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 così C'è proprio È preso È arrivata lì È rubato Tipo In tre minor range Ed è scappato Poi sembra Tipo di nascosto 9 della serie Magari non mi vede Ah è crime botte Beh giustamente top Lui non può giocare La chiana napoletana Ragazzi Cioè Quello è proprio Rubare Quello è proprio Rubare Nel senso Non era nient'altro Lì Era proprio Quello è proprio Rubaggio in pena regola Comunque ho visto Ecarissine Sono Smurf Pazzarelli Smurf Nel senso Accanto secondario C'ho visto il profilo Fanno sempre Sti Scorpazzi Come ho già detto Fanno tantissime kill Tantissimi morti Ogni game Praticamente Quindi Ci sta Un modo di giocare Molto Particolare Ah beh Che ci abbiamo Questo Le scarpe Ricordiamo Non ci danno hp Quindi non ci servono Però ci potrebbe Far comune Una bella Titanic Hydra Per avere Ancora più hp Ragazzi Che ne dite E anche Perché sarà Il nostro Unico Oggetto Di danno Grazie Mamma mia Grazie bro Mh Ok Oh Ah Il problema mio Che non faccio Danni ragazzi E tanko Anche relativamente Poco Ah lui c'ha L'ignite C'ha l'ignite Non vado Aggressive Perché le trenti Piazza ignite Sono morto Cazzo Sto vedendo Ma che cazzo Vabbè C'ha tipo Il quinto pugnale Che li tira Shaco E quello sta lì Wave rovinata Da una box Benissimo Ottimo ragazzi È colpo Dell'albanese Fatto Sì Niente ragazzi Wave rovinata Dalla Shaco Box Però se va sotto torre Dai Neanche rovinata Allora Oh guarda come si pusha bene Con sto oggettino qua Animo Ce l'ha Duro Ho visto In tantissimi Video Quale modo migliore Per iniziare l'anno Se non con una bella Suba fierica Sembra già un campione Più umano Jax Giocato con un oggetto Che ti permette Boh Di fare qualcosa I danni sono molto pochi Però Poi giochiamo senza Concorrere tal tempo Penso sia la parte Più bella Questa Quanto cazzo ci vuole Per fare il blue buff Ok che qui L'avversario Però Oh yes Dammi la stacchettina Bro Grazie Quanto cazzo ci vuole Per fare un campo Di giungla qua Presso il carretto E fammi sto campo Di giungla Per quanto tempo Ci ho messo Diciamo Non sono abituato A fare così pochi danni Con il Jax Va bene Pushiamo anche la prossima Andiamo back Un po' rischioso Pushare questa No però Lì si ne spawn adesso No dai Sti cazzi Ok back Ci abbiamo la ulti al 2 No dai Ma cos'era Guardato Vabbè Me ne ho preso la stack Questo c'ha Cos'è quello Il collector Se qualcuno La pudiglielo Il coraggio Di prendere il fottutissimo Collector È un coglione C'è da dire che ho 83 di armor Ma adesso Miglioriamo Questo c'ha 65 Troppo buono Non ho il tp Cazzo Vabbè 24 a 18 Minuto 17 Bene Più di 2 kg al minuto Mi piacciono un sacco Sti game Qua purtroppo La torre penso Andrà giù Eh sì C'è la trinity Però Non la sta attaccando Quindi non andrà giù Direi Allora Purtroppo un po' Un controsenso Lazzil Perché Cioè dovrei andare in fight Per proccarlo tanto Però Jax non è un bel campione Con cui andare in fight Quindi Vi arrangiate Alleati Questa proprio Ferme Immobile Manco a te Non ha tirato manco La ulti sotto di sé Uno stu Niente Proprio Killatemi Riftmaker Il demonic Per i danni Adesso Demonic Non mi fa impazzire Sinceramente Non andiamo Così tanto Di spell DPS Però Por sempre Una zettatrolpica Questa Quindi Attenzione Chiana Il bot Signori Can't win with this jungle Eh Diciamo sì C'è un po' di Jungle diff Ho notato I danni Sono pochi Però Piano piano Arrivano Ok Direi che posso Andare back Che poi Arrivano tutti Ci prendiamo a titani Così iniziamo a far danno Anche noi Un po' 140d Andiamo a 182 Non male Ragazzi Non male Adesso ci sarebbe armor Però 400 500 hp Questo Non male Oh La lentezza Del jacks Guardate Lento Ma inesorabile Ragazzi Ricordatevelo Lento Ma inesorabile Oddio Forse sarebbe meglio Andare di deadmans A sto punto Sapete Ho come l'impressione Che almeno con questo Dici sai Ti muovi un po' Messi Forse devi andare Di deadmans Ragazzi Almeno potremmo Muoverci anche noi Ci sono Ci sono Ingaggia bro Vai Se solo avessi Della Wind speed Ma sono morti Tutti I miei alleati Ma c'è Zero Non faccio Dando Ragazzi Non mi muovo Non faccio Danno E purtroppo Ne subisco Tanti Perché St'oggetto Qua Non ti dà Difese Eh Questi sono I boots Non ci sono Ragazzi Non ti danno Il capì Zero Riftmaker Split push Bottling Ragazzi Ci abbiamo Che gente Troppo troll Quei ci sta Ci sta Ma più che altro Perché c'è Allora Questo qua Sta smarfando E sta stompando Tutto il mio team Purtroppo Quindi E ovviamente Il nostro jungle Fa scherzo Cioè Dici Sai Avesse Il nostro jungle È chiaramente Iron Vabbè Qua proprio Non ce la si può fare Purtroppo Il nostro jungle È giga iron Però Sai dice Almeno avesse warwick No C'ha sciacco Zyra Non so Se sta trollando Cosa Sta perma Splittando Del support Ormai Prenderà Tre gold Da ogni Mino No Perché Manco Sa farmare Però Facciamo I miei alleati Stanno Più trollando Di me Vabbè Fa veramente Schifo Jax buildato Così Ragazzi Fa veramente Schifo Jax buildato Così Lasciatevelo dire Però Secondo me In late Darà più soddisfazione Perché Come ho detto Adesso Questi hanno Smarfando E stompando Il mio team Però Appena sono Full armor Tipo Lissi Non mi fa Più danno Solo che Adesso C'ha Tipo Un oggetto Intero In più Di me Guarda Lì in giro Che si Sta Killando Tutti Stanno Guarda 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 Dei bot Dei bot Che gli camminano Addosso Dai Mamma mia Che clown Fiesta Che è sto Game Che clown Fiesta Comunque Ho un po' Di movement speed Finalmente Ho preso Quanto è Undice Diciassette Movement speed Puttavia Can man Catch a break Sorry for existing Poveretta Stai andendo abusata Lissi Ho bisogno Da deadman's Per iniziare Ad essere Anch'io Parte Parte attiva Al Al gameplay C'è a dire Che penso Che in 1v Non mi killi Nessuno O forse Se premo ulti Questo qua In realtà Non mi fa Troppissimi danni Anche se Stragiga Fiddato Penso Arriverà Un po' Di gente Qui Un po' Un po' Un po' Un po' Ah, da riguardo io mi ci provo Ah beh Dopo mezz'ora ce l'han fatta, del resto Tra flash e Qualsiasi altra spell potessero usare Ce l'han fatta Listo non avesse avuto il flash e lo killavo ma Che devo dire Che devo dire E se avuto anche Da moving speed diciamo avrebbe aiutato abbastanza Però almeno vedete Così il game sta durando Se no avevo già distrutto l'inibitor Mamma mia Mamma mia ragazzi Sembra un pisello ragazzi come ha fatto qua Avete visto Che forma ambigua Se vendo questo non ci arrivo Mi mancano 100 gold purtroppo Vabbè No joke ragazzi È moving speed Penso che sia letteralmente ciò che mi sta impedendo Di fare qualsiasi cosa in sta partita Ma adesso tranquilli Ci chiudiamo la deadman se cambia tutto È letteralmente moving speed il problema Non sto scherzando La mancanza di moving speed Mi sta impedendo di giocare Ok Ok Tra un po' ci siamo ragazzi E tranquilli Tra un po' riusciamo a buildarcelo Tranquilli proprio Tranquilli Attenzione 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 Questi vengono invasi Ma lui il blue buff lo porta a casa Attenzione Sciacco Ce l'ha fatta Il grande giocatore Intanto Continua L'invade Di 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 Chiana Ma lui Si porta a casa Anche il Niente Lui è qua Lui è lì Mette le box Continua a mettere le box Fa la cuda invisibile sul po' Attenzione Vede i nemici Li vede Li osserva Niente Cambia idea Mette altre box nel frattempo Osserva lui Momento di attesa per sciacco Attenzione Le box finalmente danno i loro frutti Perfetto E il suicide Hecarim C'è morto Però ha messo le box Attenzione Segui anche Yumi Ecco qua Oh Rip Volevo prenderla io Che battaglia epica Parte del nostro jungler Incredibile Noi siamo senza il jungler ragazzi E loro ce l'hanno Quindi Ecco qua Perfetto No no ma Ottima idea ragazzi Quella di strattare il drake Questo drago ragazzi Mi sta Un po' rompendo le palle Oh l'ha ucciso Ok Andiamo top Prendiamo altre hp Ah qua ci buildiamo Questa Cioè La worm Ragazzi non mi serve a niente Potrei farmi Nonate i must chain Ma in realtà Tra un po' Riverà a non farmi più danno A questo tizio qua Quindi Siamo un po' Inutile Ma questa ragazzi Sta cazzo Sta buildando Secondo me sta Sta trollando Sta Zyro Poi voglio guardare Voglio fare un check Però c'è Interessante la build La leech bain Fa schifo Sui campioni Che devono giocarla Figuratevi Sui campioni Che non devono Giocarla Eh Forse Errando in un po' Meglio Però Non c'è nessuno Che critta Lì Oh 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 Lo intercetto Lo intercetto Lo strike è buono Sicuro Sì Però Mamma che fatica Ah Oh nice Due palle Che conf Non riesco Madonna Santa Sei secondi E mezzo Di cc Comunque il danno Mevo far rise Principalmente Quindi Devo farmi qualcosa Per rise Force of nature Non mi dà Tanta magic Cioè Non mi dà Tante hp Però Mi permetterebbe Di sopravvivere A rise E mi dà E mi dà Anche Alta Moe in speed Non ha tema Surrise Un'altro Un'altra opzione Boh Questa però Mi dà Troppo Moe in speed Ragazzi Abbiamo capito Che il nostro Deficit È la Moe in speed Quindi andiamo Con questo La visage Non mi serve Un cazzo Non mi curo Quindi Cioè Proprio Totalmente Inutile Vedete Comunque Già con la Moe in speed Abbiamo un po' Recuperato Il problema Della Deadman Split Che la perdi Subito Moe in speed Quindi Questo è un po' Il problema Di turno Però Comunque Come avete notato Lissina sta iniziando Un po' a perdere Come è giusto Che sia Ma sì Ma che venga Ah c'è anche Raids Vengono tutti Capisco Tutti Tutti Un po' Un problema Attenzione L'inseguimento Epico Ecco qua Ecco qua Pezzi di merda No Fate No Che palle ho Baron Potrebbe essere Una call Interessante Vado a fare da muro Per Ekarim Da dove uscirà Da qui Niente 50-50 Ho sbagliato Attimo Con la mia Giga lentezza Arrivo Quanti Quanti Begli Shutdown Ragazzi Che abbiamo Visto Ok Ci abbiamo La force of nature Altre Moon speed Signore Signore Bene Magari Una bella Warmog Adesso Ti stiano Tutte le kill E più che altro Sono io che non riesco A prenderle Faccio troppo Poco danno Inizio ad avere tanta vita ragazzi Ora finalmente ho anche le resistenze Ma come scappa appena tirò Comunque guardate che danno mi ha fatto Nonostante tutto E non c'è il void staff No no Si ingaggia Si ingaggia Let's go Let's go Mamma mia Il grasp Jax Dove siete Bastardi Pezzenti Venite qua Playsafe Il meme Ragazzi Il meme Ma cosa stanno facendo Nooo Ma dov'è Shaco Ok Playsafe ragazzi Non può mai mancare Comunque incredibile sta cosa Quanti HP hai di grasp 250 Quasi 245 1600 1600 danni Rip torre 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 Ormai voglio arrivare a full build Che cazzo Rip torre Anche l'abilità Sto un pochino Un problema Non ne ho tantissimo Oh 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 Scombatte Non l'ho preso Ok basta che sono Se killo questi Chiudiamo Quindi vado back Prendo la mia bella Wormog Black lever Quanto mi da Mi pare Non ta 350 Potremmo andare A questo C'è la 650 Che comunque ci da 20 abilità Non ci da danno È vero Sennò questo è la 400 HP Ma ci da danno Arrivo anch'io Arrivo anch'io Alla festa No Rip Adesso è carim Stompa Stompa tutti Ma tanto Tira dritto sulla copia Oh l'ha preso Attenzione Chiana vorrei aiutarti Sono leggermente Lento Arrivo Arrivo Sì 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 Lento Ma inesorabile Oddio Non sono più lentissimo Però in confronto A Hikari Me lo sembro Shogin Quanto ci da La Shogin Ah troppo poco Non sbaglio 300 Questo qua È il Jax Degli HP Tuk 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 Secondo che questi qua sono altri smart di quelli che di cui ho parlato che tipo stompano poi smettono di interagire con la partita Via Ha preso Vabbè niente Ma va ha preso Caitlyn Proprio Nel posto sbagliato al momento sbagliato Oh madonna Sono 10 10 10 10 Attenzione E comunque adesso ho 40 biti e comunque strivere a 50 non è male Cioè è accettabile ecco 3-10 Triple 10 2400 HP C'ha messo un po' a forma Io sapevo che in late avrebbe dato Avrebbe Dato sensazione Che lui Come ho detto inizio Ha stompato troppo Ma con la build letality Non mi fa danno Adesso andiamo dal nostro amico Jesus Ecarim Stompala Ecarim No Ecarim Ma Ma questo Mi servono le stack Datemi le stack Vabbè Dai ho preso tante HP Attenzione Caitlin Lotta per la sua vita 1268 HP Non male La demonica non sarebbe male Però Per il Jax Per il Jax Che sto facendo Ho più bisogno di Di ability haste Sinceramente Però Dovrei vendere questo Ragazzi comunque c'è Dai Dinanzi a questa Io penso che La build di Zaira Sia più troll della mia Onestamente Proprio Siamo La build di Zaira È più troll della mia By far Però Group Mid and finish In chat all L'ha scritto in chat all Così nel dubbio Che sia il nostro team O loro Va bene comunque Che casino sto facendo Combattete Ah che bordello E insomma ragazzi C'è un problema Non ci abbiamo Riduzioni di cure Qua nella nostra build Full HP Eh vabbè E quello Sai refullà Tra Yumi E quello Però questo È un po' Troppo 3 yard Zaira E mi sa che la perdiamo No non ho voglia E ragazzi Il problema di Ekren Che si refulla Guardate la build C'è Si refulla un casino E c'ha Yumi addosso È questo il problema Comunque C'è 41 minuti Non ho ancora finito La build Sta cosa qua Non è bellissima Dove essere sincero Ah ce l'ho questo Buofamo ci sta Anatema Lo mettiamo su Ecarim a sto punto Perché con sta build Penso che Ecarim Sia il peggiore di tutti Reds per fortuna C'ha Ludens Se Reds avesse avuto Se Reds avesse avuto La maschera Era veramente Dolori Erano Dolores Eh non sono lì Erano veramente Dei Dolores In quel caso Ci stanno tantissimi Collector In sta partita Perché ci stanno I due Smurf Pazzerelli Ok Ok I due coglioni Ok Andiamo a un posto E usciamo a chiudere Sta partita Che è durata Anche troppo Ragazzi Per RB Non so Voi cosa ne pensate Le Basta Grazie a Dio Quanto è durata Jax Scrive Caitlyn Nel Mamma mia Ragazzi Quanto è durata Sto game Chiana Penso sia l'unico Che abbia Leggermente Contribuito Al game Dice non male Po 42 minuti Beh Che dire Io sta Zyra Zyra e Kitten Ragazzi Cioè Erano Una roba Che penso Siano difficili C'è da descrivere 30 morti in due Fammi notti vedere Allora Cioè Giochi Zyra con i Riffmaker Lì Beh io voglio capire Se tu sei un essere umano Non credo Ne dubito Ma gioca sempre così No qua c'è C'è un Everfrost Il fatto che sia legit Ragazzi è preoccupante Cioè Cioè la build Poi te la suggerisce Ok Katelyn Non possiamo saperlo Katelyn No qua c'è un luogo No qua c'è un luogo